Buonasera ben ritrovati allo spazio dedicato all'informazione regionale. Continua l'attività delle vaccinazioni in Veneto e fortunatamente stanno migliorando quotidianamente anche i dati del covid e allora sentiamo subito i numeri riportati nel bollettino Veneto delle ultime 24 ore. Continuano a migliorare i dati relativi al covid. L'ultimo bollettino della regione Veneto indica ancora un calo dei ricoveri. Negli ospedali veneti ci sono 773 pazienti dei quali in area covid 681, 92 sono in terapia intensiva. Triste invece il numero dei decessi. Si contano 8 vittime in 24 ore. 255 nuovi contagi su 34.754 tamponi effettuati con un'incidenza dello 0,73. Il totale dei positivi oggi in Veneto è 9.704. Se verrà confermato il parametro di essere sotto i 50 contagi ogni 100.000 abitanti, il Veneto dal 7 giugno passerà in zona bianca. Il presidente della regione Veneto sta seguendo da vicino la vicenda che riguarda un nostro connazionale detenuto in Pakistan da 50 giorni con l'accusa di frode. Secondo la famiglia del detenuto le condizioni nelle quali si trova sarebbero disumane e nei giorni scorsi avevano lanciato un appello alle istituzioni italiane. Zaia ha già avuto dei contatti telefonici con il ministro degli esteri Di Maio e sempre Zaia ha spiegato che sono state messe in campo tutte le forze per risolvere il prima possibile la situazione. L'attività del proloco rappresenta un valore aggiunto per il territorio, una grande macchina fatta di volontari con un grande impatto sociale. Il senatore Antonio De Poli ci ha parlato di un disegno di legge per la loro tutela. Ridurre il peso della burocrazia per amministratori e associazioni proloco, valorizzare le realtà territoriali, riconoscere a livello normativo la realtà delle proloco, valorizzare la realtà territoriale, facilitare e semplificare le procedure per la realizzazione delle attività, tutelare l'operato dei volontari. Sono questi gli obiettivi di un disegno di legge che riconosca a livello normativo le proloco. Gli obiettivi sono stati presentati dal senatore De Poli durante l'incontro di presentazione del libro Proloco Risorsa per il territorio. Le indagini quantitative e qualitative di questo studio dimostrano la ricchezza delle attività promosse dalle proloco sui territori. È un'iniziativa fondamentale e importante da un punto di vista parlamentare, altrettanto si collega anche con tutte le risorse, i progetti che dovranno avvenire proprio nei prossimi mesi, a partire dal PNRR, che bisogna riconoscere questo grande mondo del volontariato e delle proloco e di tutto l'altro mondo del volontariato come risorsa, risorsa come dicevo prima socio-economico del nostro territorio e oggi bisogna avere l'attenzione per poterla far riaprire e ripartire e credo che questo sia l'obiettivo che ci poniamo. In Italia sono 6.200 le proloco e coinvolgono 600.000 soci e 300.000 volontari attivi, un capitale umano che genera ogni anno 25 milioni di ore di lavoro che servono per organizzare e gestire 20.000 sagre e fiere e 90.000 eventi e attività in tutte le regioni italiane. Un impegno finanziato in proprio per il 37% che produce nel complesso ben 2 miliardi e 100 milioni di euro di valore economico. Nella notte un corpo senza vita è stato trovato sulla linea ferroviaria tra Mestre e Quarto d'Altino. Il rinvenimento è avvenuto perché il conducente del Frecciarossa della tratta Torino-Trieste ha sentito un urto e quindi ha avvisato. Il mezzo, quando è arrivato alla stazione, era anche visibilmente lesionato. La polizia si è portata dunque sul tratto indicato ed è stata fatta la terribile scoperta. Da appurare ancora se si sia trattato di un gesto volontario della persona oppure di un incidente. E dopo questa notizia tragica ci spostiamo a Padova per parlare di uno scontro tra due mezzi avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Una donna è rimasta ferita. Guardate. Martedì nel tardo pomeriggio scontro in via Rocco a Padova tra un'auto e un furgone. Ferita una donna. La conducente dell'auto è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasportata all'ospedale. Illeso il conducente del mezzo commerciale. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi mentre la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. La scorsa notte alle due i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma d'Arqua Petrarca in provincia di Padova per soccorrere una donna che con l'automobile ha imboccato erroneamente la passeggiata Petrarca che subito dopo diventa una scalinata. Una lieve contusione per la signora nella concitata uscita dalla sua Fiat 500. È ovviamente tanto spavento. Sul posto i pompieri provenienti da Est hanno provveduto al recupero del mezzo facendo percorrere all'auto gli altri 50 scalini senza provocare ulteriori danni alla vettura dopo la rottura del semiasse. Sul posto presenti anche i carabinieri. Questa mattina le fiamme hanno distrutto un negozio di maschere che si trova a Venezia. Vediamo alcune immagini dell'incendio. Mercoledì mattina le fiamme hanno distrutto un negozio di maschere che si trova in centro a Venezia. Il fuoco è divampato verso le 10 e 30 nel Sestier Canareggio. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Nell'area c'è stata molta pressione anche perché il fumo si è alzato facendo preoccupare turisti e residenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e bonificato i locali. Le cause potrebbero essere di origine elettrica ma naturalmente dovranno essere appurate. Un cittadino senegalese con numerosi precedenti penali ha tentato di rubare della merce dal negozio di un centro commerciale di Mestre quando è stato scoperto o assunto degli atteggiamenti violenti contro gli addetti alla sicurezza e ai lavoratori del negozio. La squadra volanti della questura è intervenuta sul luogo dell'accaduto ed è riuscita ad arrestare il senegalese. Già sottoposto a rito per direttissimo e al tribunale ha convalidato l'arresto adottando la misura della custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza che è stata già fissata per il 7 giugno prossimo. Venerdì alle 11 verrà inaugurato un altro tratto della Pedemontana si svolgerà una cerimonia a Bassano si tratta di un punto strategico l'infrastruttura si innesterà con l'innesto della 27 un altro step poi è previsto per la fine dell'anno con il completamento dell'innesto sulla 4 a Montecchio Maggiore. A Padova paura per il cedimento improvviso dell'asfalto in una via della città guardate. Un improvviso cedimento dell'asfalto ha provocato l'inclinazione di alcuni alberi molto alti. È successo a Padova in via Giovanni Sebastiano Bach nei pressi dell'istituto comprensivo Rosmini scuola salvo d'acquisto. Gli alberi rappresentavano un pericolo per la strada sottostante per gli edifici adiacenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto al taglio delle piante e rimettere in sicurezza l'area. L'Ulss 6 Euganea di Padova ha diramato un comunicato con delle precisazioni in merito al centro sociale animazione e formazione che si trova all'interno del complesso ai colli. Punto di aggregazione sociale cui facevano riferimento fino all'epoca pre-covid 25 ospiti con problemi di salute mentale. Il punto non verrà riaperto dopo lockdown perché non risponde ai criteri di sicurezza. Deve essere sottoposto a improrogabili interventi di ristrutturazione emessa in sicurezza. Per gli ospiti nell'ottica di una presa in carico continuativa verrà definita dal centro di salute mentale dei colli una rimodulazione del progetto riabilitativo personalizzato. In questo senso in base al progetto definito nelle prossime settimane gli ospiti potranno essere agganciati da altri centri autorizzati. L'Ulss 6 ha già avvisato le famiglie degli ospiti e tiene costantemente aggiornato il comune di Padova sull'andamento dell'attività. Ed ora vediamo il tempo che cosa accadrà nei prossimi giorni con questo clima di maggio davvero freddo e insomma spesso oggetto di cambiamento. Giovedì transiterà sulla regione un veloce impulso perturbato che porterà ancora condizioni di variabilità a tratti di instabilità. Saranno possibili ancora rovesci e temporali prima sulle zone di montagna poi dal pomeriggio anche su parte della pianura. Venerdì rimonta dell'alta pressione quindi avremo un tempo soleggiato. Sabato però una probabile nuova fase di instabilità per l'arrivo da nord-est di una depressione che darà qualche precipitazione tra il pomeriggio e la sera. La mattina di domenica un possibile miglioramento si avrà nel pomeriggio ma con uno scenario ancora da confermare. Queste erano le previsioni di Arpav Veneto. Noi siamo arrivati al termine di questo spazio dedicato alle notizie regionali. Tra poco l'informazione nazionale a cura di Italpress 24 alle 20 e 30 l'appuntamento con Padova nel cuore. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.